Are you ready for the workout? Bene, benvenuti in Body Power and Elasticity, io sono Smami, questo è il percorso start, lezione numero 6, iniziamo subito con il riscaldamento, allora, vado in plank, scendo, allungo, torno e su, poi scioggole anche, 10 a destra, 10 a sinistra, gamba in avanti, allora, 1, 2, 3 e torno, destra e sinistra, apertura, sumo squat, mi raccomando, bacino incassato, non vi fate l'arco dorsale, ma incassate il bacino, ginocchia che seguono la linea delle punte dei piedi, andiamo subito a iniziare il nostro riscaldamento, vamos, gritta, oggi è lezione veramente spinta, eh? Ok, scendo, potete scendere anche con le gambe, legate, risalire, anche così, anche così, ci stiamo scaldando, vai, allungo bene il plank, vai, forza a non mollare, siamo proprio all'inizio, non esagerare nel riscaldamento, senti bene tutte le posizioni, ok, bene, scioglone anche, 10 a destra, 10 a sinistra di rotazione, tieni bene la posizione, cerca l'equilibrio, stringi i glutei, 1, 2, tieni forte gli addominali, 3, giù le spalle, 4, vai, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, vai, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai, 7, 8, 9, vai, 10, ottimo, gamba al petto, allungo, torno e su, 3, 2, 1, 2, 3, e vai, su, vai, allunga, torni e ti srotoli, allunghi, torni e ti srotoli, tieni forte gli addominali, allungati, torna e ti srotoli, allunga, allunghi bene, torni e ti srotoli, schiena lunga, bene, vai, ok, allora, vai squat, mi raccomando le ginocchia, tieni forte gli addominali, stringi i glutei, vai, vai, forza, vai giù le spalle, tieni i glutei, muovo solo i fianchi, vai, forza, 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 stringi i glutei, tieni gli addominali, vai, vai, giù le spalle, ok, bene, secondo giro di riscaldamento, respiro bene, vai, e allungati, fai un bello plank, schiena, spalle, torno e via, vai, e forza, allungo, vai, torno e mi srotolo, vai, e vai avanti, allungati bene, torno e mi srotolo, vai, ok, bene, bene, sciogole anche, dieci a destra, dieci a sinistra, giù le spalle, e vai, uno, due, tre, vai, quattro, e un filo che mi tiene giù, su, cinque, sei, sette, otto, nove, e cambia, vai, e uno, e due, e riporti gli addominali, tre, vai, quattro, cinque, corta le gambe di terra, sei, porti gli addominali, sette, giù le spalle otto, respira nove, e vai, ok, vai, gamba al petto, lungo, torno, mi srotolo, portati, ringo bene gli addominali e i glutei, lunga la schiena, lunga la gamba, torno, mi srotolo, vai, vai, e su, vai, 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 e forza, gamba al petto, allungo, torno, e vai, vai, allunga, forza, e eccoci, vai, allunga bene, forza, ok, bene, adesso, divarico le gambe, sumo squat, e faccio un bello a fondo, respiro, forza, sulle spalle, vai, forza, vai, respira, non mollare, forza, vai, 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 tieni la pancia, stringi bene gli addominali, spalle, respira, yes, oh yes, ok, vai, allora, primo round, primo round, bello pompato, scusate controllo che ho avuto un po' di problemi con le registrazioni negli ultimi tempi, allora, primo round, cardio, quindi pompiamo senza salti, facciamo un mezzo barpi, così, mi intorno in squat senza salire, secondo, over to plank, da qui, punto i piedi, alzo e faccio, questo e torno, questo e torno, mi raccomando, chi non ce la fa, fa questo, che comunque è un grandissimo lavoro, e può riprendersi anche appoggiando le ginocchia a terra, poi, terzo esercizio, da qui, gamba al petto, al petto, su, su, plank, ginocchia al petto, ginocchia al petto, andiamo, bevete se avete necessità, cominciamo, alla grande, cardio, ritmo, movimento, forza, e, su, 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 e, vai, su, respira, vai, resta in squat, non mollare, su, fa l'occhio più lento, eh, ognuno scega il suo ritmo, mi raccomando, mi raccomando, vai, 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 forza, non mollare, oh yes, bene, forza, over to plank, vai, vai, alza le ginocchia, allungo, torni, vai, 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 fai una gamba per volta, se non ce la fai, forte le braccia, vai, forza, vai, stete le braccia, vai, su, 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 vai, via, vai, forza, forza, non mollare, vai, schiena dritta, forza, ok, piano, vieni su piano, mi raccomando, sempre piano perché puoi girare la testa, vai, su, su, allungo il plank, uno, due, arrivo il plank, gamba di occhio aperto e di occhio aperto, oh, oh, vai, su, su, e, su, su, e, vai, vai, e, su, su, e, vai, 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 forza, su, su, e, vai, respira, tu con il tuo ritmo, forza, puoi fare anche per andare in plank, una gamba dopo l'altra, vai, su, questo, vai, su, forza, non mollare, forza, ok, lento, 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 vai, ricomincio con mezzo partis, e puoi fare anche una gamba dopo l'altra, su, 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 forza, forza, su, vai, 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 su, forza, non mollare, ce la fai, vai, 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 vai Tieni forte le braccia, lunga la schiena, forti gli addominali, respira, vai, forza, vai, vai, forza, vai, forza, vai, su, vai, vai, non mollare. Non mollare, ok, grande, vai, tieni, alzo e plank, ginocchia il petto, ginocchia il petto, vai, su, uno, due e vai, su, su e vai, su, su e vai, Forza, forza, vai, su, vai, e forza, vai, vai, gamba al petto, vai, su, vai, con il tuo ritmo, vai con il tuo ritmo. Rallenta se hai bisogno, non ti fermare, vai, rallenta se hai bisogno, ok. Vai, terzo set, nel primo round, metto l'arpis. Su, 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 forza, forza, vai, su. Non mollare, non mollare, non mollare, vai, su, 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 vai, 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 ok. Vai, vai, perché, vai, 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 vai. le braccia, vai, lunga al fine, respira, scegli il tuo ritmo, se non ce la fai prendi qualche secondo, oppure allunghi in plank, piappa destra, piappa sinistra, forza, vai, forza, forza, sì che ce la fai, sì che ce la fai, vai incrementa, incrementa la forza, vai, su, vai, ok, vieni piano, grande, bravi, vai ultimo, e uno, due, e vai, al petto, su, su, e vai al petto, e su, su, e dinocchia al petto, e su, su, e ginocchia al petto, e vai, vai, e vai, su, e su, vai, non mollare, siamo gli ultimi, forza, su, vai, e su, su, e vai, vai, e su, su, e vai, vai, su, vai, e su, vai, sì, grandi, 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 bravissimi, ottimo, ottimo, vai, tappetino, il nostro round di allungamento e stretching, ok, vai, facciamo scendere il battito, vai, vai, e su, ok, ultimo, e vengo giù, prendo i gomiti, allungo bene, allungo bene, piccolo oscillamento, sento, una piccola oscillazione, vai, vai, ok, adesso, mani in avanti, scusami, due vicine piedi, allora, inspiro, chi non ce la fa toccare, fa questo, e, butta fuori, vai, e, vai ancora, e, ultimo, e, prendo la camina destra, allungo, 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 ok, e, torno al centro, giù la testa, camina sinistra, vai, vai, allungo, allungo, vai, con il, con il mento sulla spalla sinistra, guardo, guardo, ok, e, vai, appoggio, cerco, cerco di stare seduto, seduta, tenendo, la pianta del piede, aderente al pavimento, vado giù, vai, e, allungo, e, prendo, prima, con tutte e due le mani, inspiro, e piego, e, espiro, buttando fuori l'aria, inspiro, ok, adesso, prendo il ginocchio destro, allungo, verso il fianco sinistro, il braccio destro è lungo, con il dorso della mano, che appoggia il pavimento, giù, giro totalmente la testa, verso la mano destra, e sto, e sto, ok, piano piano, torno, adesso cammino la gamba, ok, e, faccio con la sinistra, giù la testa, e, scusate, giù il mento, c'è anche la testa, chi ce la fa può prendere la punta, se no, chi non ce la fa, va bene, e poi, uno, inspiro, due, inspiro, 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 ok, mano destra sul ginocchio sinistro, lentamente giro, il volto alla sinistra, il volto alla sinistra, dorso della mano sinistra sul pavimento, butto fuori l'aria, respiro, 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 ok, piano, torno, e, mani sotto le ginocchia, vengo su, vado in quadrupedia, e, inspiro, 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 ancora, inspiro, allunga la gamba destra, va oltre la sinistra, e guarda, guarda, tendila bene la gamba, tendila, allunga, tienila forte, ok, e torna, allunga la sinistra, vai oltre la destra, gamba tesa, allungati, guarda, guarda, guarda bene, ok, e, da qui, allunga, e incassi, e allunga, e incassi, allungati, e incassi, e torna in quadrupedia, vai in plank, chi ce la fa, va giù, senza le ginocchia, altrimenti, appoggiate, venite giù, chaturanga, allunga, vai, e, adesso, un po' più distanti le mani, e allunga, allunga, giù le spalle, giù le spalle, e, vai un po' più distanti ancora, con la punta delle dita, inspira, giù le spalle, giù le spalle, giù le spalle, vai, e, ok, vai, e, quadrupedia, poi torno, mi siedo, e, da qui, allungo, e divarico, allungo e divarico, e, piano, scendo, laterale, scendo, laterale, bene il braccio, parallelo alla gamba, ok, mano che sta qua, e allungo, vai, e, allungati, vai, ancora, un'altra volta a destra, vai, un'altra volta a destra, vai, un'altra volta a destra, ok, e, ultima volta a sinistra, piano, 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 ok, adesso, chiudi le gambe, scioglili un attimo, scioglili un attimo, ok, adesso, mettiti in questa posizione, quindi, ginocchio, destro, e, diciamo, esterno, verso il pavimento, e ginocchio sinistro, quello interno, dall'altra parte, e, da qui faccio, questo, vai, appoggiando le mani dietro, vai, incassa il bacino, vai, 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 ok, ultimo, e, adesso, allungo, vai, e, torna, allunga, ritorna, allunga, resta, 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 e, da qui, ti dai un piccolo aiuto, resti giù, e, adesso, lentamente, ma, lentamente, giù la testa, ti srotoli, lento, lentissima, vai, lento, incassa bene, vai, mento, tieni la pancia, allunga, e, ok, passiamo al secondo round, passiamo al secondo round, ve lo spiego, velocissimamente, è veramente una figata, ok, allora, prendete lo swiffer, facciamo squat a 360 gradi, come? in questa maniera, faccio squat, e, da qui, vado, schiena, appoggio, quindi, torno ogni volta, destra e sinistra, poi, braccia, questo è bello tosto, eh, allora, fianco destro, mano sinistra, appoggio, piego e stendo, destra e sinistra, addominali, angolo retto, braccia in alto, mi raccomando, e, allungo e torno, allungo e torno, chi non ce la fa, può fare, ok, questa maniera, oppure può fare un po' più alto, invece di allungare parallelamente, lo fa un pochino più alto, così, è leggermente bello impegnativo, è sempre, comunque, un ottimo esercizio, ok, vai, iniziamo il nostro secondo round, vedete se avete bisogno, prendete lo swiffer, e diamoci dietro, dentro, vai, e, forza, vai, e, mi raccomando, le braccia, cortesemente, non me le lasciate mosce mosce, ok, decidete voi, così, 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 non importa, l'importante, è che, le utilizzate, le sosteniate, con i gomiti, in modo tale che anche le spalle, sono aperte, mi raccomando, addominali, mi siedo, mi siedo, mi siedo, forza, vai, vai, ok, vai, sinistra, questo è un bel esercizio, considerate, che si può fare ancora più tosto e impegnativo, con l'elastico e con i pesi, quando passerete al power, perché ci passerete, faremo veramente delle cose molto, molto più impegnative, chiaramente, perché ogni, ogni percorso ha il suo livello, ma chiaramente io vi porto al livello successivo, voi dovete essere costanti e avere fiducia in me, vai, 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 forza, vai, allungo, 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 yes, ok, vai, vai, mi sdraio sul fianco destro, mano sinistra, mi abbraccio, ok, vai, vai, non vi dico perché in questa lezione sto continuando a controllare se registra, perché questa è la quarta volta che tento di registrare questa lezione, e a causa della memoria piena, nonostante l'avessi svuotata un po' prima, praticamente, si riempie subito, con mia somma, quindi, non vi dico come sto messa, vai, se hai troppa fatica, allungi la gamba, e cerchi di, diciamo, distribuire il peso del corpo, diversamente, perché allungando la gamba, pesi meno sul braccio, ok, vai, braccio destro davanti, mi abbraccio con il fianco, con il sinistro, e comincio, vai, ok, forza, su, guarda davanti, vai, vai, non mollare, forza, su, vai, che ce la fai, vai, 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 se è troppo, allunga la gamba, vai, se allunghi la gamba, vedi come il peso del corpo si distribuisce in maniera più equa, e quindi pesa meno sul braccio che sta lavorando, ok, annulli, forza ragazzi, grinta, dai, vai, allora, vai, allungo bene, altro letto, tengo gli addominali, questo è letto, eh, schiaccio bene il mento e la schiena al pavimento, bacino, forza, schiaccio tutto, vai, 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 se non ce la fai, va bene anche questo, vai, se no una gamba dopo l'altra, non tutte e due insieme, forza, e due insieme, ottimo, vai, glutei, facciamo il nostro bello orologio, o glutei a 360 grammi, e due insieme, forza, e, vai, tieni forte gli addominali, più le spalle, forza, stringi i glutei, vai, 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 forza, grinta, non mollate, non mollate ragazzi, forza, vai ragazze, vai, ma avete detto che volete le chiappe a cuore, e io ci sto lavorando, eh, vai, forza, vai, su, stringo bene, come se fossi seduta su una segna, ok, vai, sciolgo, bevi se hai bisogno, forza, e, sinistra, e, vai, vai dietro mi raccomando, eh, su, e, tieni gli addominali, vai, forza, vai, lunga la schiena, non mollare, vai, vai, forza, grinta, grinta, su, su, forza, vai, 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 e, vai non mollare, non mollare, forza, grinta, forza, su, 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 e, ok, bene, ottima cosa, vai, distesa, sul fianco destro, braccio sinistro avanti, e, bene, abbraccio, su, su, e, respira, uva il collo, le spalle, se è troppo per te, allunga la gamba sinistra, quella, questa qui sopra, in questa maniera, il peso del corpo si distribuisce, e, praticamente, il peso è meno forte sul braccio che lavora, lavora sempre, ma sicuramente, in maniera inferiore, vai, forza, vai, ok, bene, bene, stiamo lavorando veramente bene, ragazzi, ottimo lavoro, ottimo lavoro, non molliamo, eh, non si retrocede di un centimetro, vai, su, forza, vai, vai, non mollare, su, dai, e, vai, e, vai, 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 forza, su, vai, non mollate ragazzi, dai, se è troppo per te, allunga la gamba destra, questa qui, il peso del corpo così, si distribuisce, meglio, e non grava tutto sul braccio, ok, bene, dai, addominali, forza, vai, su, schiaccia bene, sia il mento che il bacino, vai, allunga, vai, vai, allunga bene, schiaccia tutto, addominali sul pavimento, lento, 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 dai, forza, vai, terzo set, secondo round, vai, vai, seduti, seduti dietro, come se, se fossimo seduti, o volessimo andare seduti su una sedia, vai, 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 mi raccomando, eh, mantieni la stessa altezza, si muove solamente il piede esterno, e, 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 e quello che fa da, da base, tipo compasso, ruota, vai, 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 yes, yes, ottimo, sinistra, 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 e, vai, 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 su, 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 indietro con il sedere, eh, mi raccomando, la punta delle ginocchia non supera la punta dei piedi, vai, su, vai, 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 dai ragazzi, che è tutta salute meravigliosa, che ci arriva, salute fisica, salute mentale, che ne abbiamo tanto bisogno, della salute mentale, forza, vai, vai, oh yes, forza, dai ragazzi, secondo round sta per terminare, forza, vai, forza, vai, forza, non mollare, eh, vai, respira, goditevi questi esercizi, senti i tuoi muscoli, ascolta il tuo corpo, respira, fai entrare ossigeno, allunga la gamba se senti il bisogno, vai, così alleggerisci anche il peso che hai sul braccio, si allunghi la gamba, vai, 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 l'ultimo, l'ultimo, del secondo round, poi ci vogliamo un sano stretching, allungamento, facciamo delle cose belle, eh, come se, uno, vai, su, allungati bene, piega e stendi il gomito, eh, non è che è questo, eh ragazzi, mi raccomando, non è la spalla che si muove, ma la spalla va giù perché piego il gomito e lo faccio venire su, piego, vai, vai, allunga la gamba, se è troppo per te, allunga la gamba, non mollare, su, non mollare, eh, stiamo arrivando, stiamo arrivando alla fine, forza, grinta, forza, vai, vai, ah no, gli addominali, certo, stavo pensando adesso che era l'ultimo, gli addominali sono gli ultimi, del secondo round, vai, e schiaccia tutto, momento, e addominali, se è troppo per te, fai questo, oppure fai prima una gamba, e poi un'altra, se invece ce la fai, vai, poi tutte e due insieme, usa il respiro, angolo retto, ti fermi, schiaccia il mento, vai, vai, yes, grandissimi, second round, it's gone, adesso abbiamo il nostro stretching, sistematevi sui vostri tappetini, vai, facciamo un po' di stretching sui glutei, vai, ok, allungo bene, va bene anche questo, ok, tiro le ginocchia, e adesso prendo il tallone al ginocchio sinistro, infilo le mani, metto il gomito nell'incavo del ginocchio destro, inspiro, con il naso, e... piaccia il mento, inspiro, con il naso, vai, ultimo, piaccia il mento, ok, adesso, cambio, sinistra, tallone sinistro, o meglio, caviglia sinistra, sul ginocchio destro, ok, teso, gomito sinistro sull'incavo del ginocchio, sinistro, inspiro, e... allungo, schiaccia il mento, giù le spalle, vai, vai, e... vai, inspiro, e... ultimo, vai, ok, adesso, vai, allungo, e... vai, unisco i piedi, allungo, tiro, 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 e... chiudo, vengo su, vado su in quadrupedia, vai, vai, adesso, vengo su in plank, in plank, resta, resta in plank, resta in plank, resta in plank, resta, mi allungo, e... butta fuori l'aria, ultima volta, vai, vado in plank, se non ce la fai scendere senza le ginocchia, appoggiali, vai, e... allunga, e... vai, allunga bene, allunga bene, allunga bene, adesso, punti i piedi, cane a testa in giù, schiaccia la schiena, allunga, non importa se hai un pochino le gambe piegate, ok, vai, cammina, cammina verso le mani, adesso, vieni giù, ti siedi, e... allunghi la gamba sinistra, metti la pianta del piede destro sulla coscia, schiaccia, vai, allunga, respira, allungati bene, allungati bene, schiaccia il ginocchio e il palimento, e... allunga, e... vai ancora, e... ultima volta, vai, ma resta, 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 e... adesso, apri la gamba destra, appoggia la mano sinistra dietro, mano destra, inspiro, e... vengo su, con alzando il bacino, e... piano, piano, torno, inspiro, e... torno, vai, vai, allungati, e... piano, piano, torni, ok, adesso, apri la gamba destra, quello che puoi fare, ok, metti le mani sul pavimento, inspira, e... butta fuori l'aria, allunga, quello che puoi fare, anche questo è già un esercizio, eh, per chi chiaramente è all'inizio, vai, inspira con il nado, e... vai ancora, inspira con il nado, e... butti fuori con la bocca, ultima volta, vai, resta, 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 ok, torna, pianissimo, e... adesso, vado dall'altra parte, tendo la gamba destra, pianta i piedi sulla coscia destra, giù il ginocchio, allungo, e butto fuori l'aria, torno, guarda davanti, e... butto fuori l'aria, vai, allungo, resta, 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 lunga resta, e... torno, apri la gamba, mano dietro, la schiena da destra, lunga la sinistra, inspiro, e... 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 piano piano, torno, vai, inspiro, e... vai, ok, ultima volta, vai, e... allunga, e... ok, adesso, apro la gamba sinistra, quello che puoi fare, mani, davanti, lungo il collo, un filo che mi allunga, verso il soffitto, dalla punta del sedere, alla punta della testa, inspiro, vai, inspira, e butti fuori, inspiri, ultima volta, vai, resta, 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 e... torna, ok, vai, sciolgo, sciolgo, e... incrocia, 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 e da qui, appoggio la mano destra, e allungati, 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 e... dall'altra parte, ti allungo, ti allungo, ti allungo, e... butta fuori l'aria, butta fuori l'aria, cerca di appoggiare se puoi, vai, cercate di vivervi questi esercizi, eh, non fateli meccanicamente, cercate di sentire il vostro corpo fin dove arriva, vai, allungati, allungati, e schiaccia, con i gomiti chiudi, ancora, vai, vai, resta, 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 e... piano, 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 torno, piedi, vengo su lenta, lento, mi srotolo, mi srotolo, mi srotolo, yeah, yeah, terzo round, ragazzi, terzo, fantastico round, siete pronti? io intanto devo controllare se registra, sì, vai, elastico, elastico, sopra le ginocchia, fondamentalmente, qua, vado su, su il bacino, eh, apro, apro e chiudo, apro e chiudo, ok, poi, sempre con l'elastico, mi metto l'elastico sotto un, poi, appoggio qui, ok, schiena dritta e tiro su esternamente il gomito, ok, addominali, dead vada, attenzione alla coordinazione, braccio destro indietro e gamba indietro, e vai, sempre, sempre la gamba all'angolo retto, ok, vai ragazzi, forza, no, no, scusate, il cappettino rimane fondamentalmente, vai, mettiamo il nostro timer, ultimo round, forza, viva la vita, la salute, l'attività fisica e l'energia che ci regala, vengo su, apro, chiudo, apro, chiudo, stringi i glutei, vai, forza, vai, su, vai, stringi bene, forza, vai, stringi bene, vai che ce la fai, vai che ce la fai, forza, vai, stringi i glutei, tieni forte gli addominali, non mollare, apri e chiudi, vai, vai, senti che lavoretto, stringi i glutei, vai, vai, forza, apri e chiudi, bene, oh oh, e adesso, braccio, dorsali, vai, mi raccomando esterno, eh, schiera dritta, e lavorato, eh, nel senso che deve essere lento, su, lunga la schiena, vai, forza, su, allunga la schiena, respira, vai, non mollare, lungo il collo, forti gli addominali, ok, sinistra ragazzi, forza, allunga la schiena, e, 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 piedi paralleli, sulla stessa linea, vai, sentite come si ingaggia praticamente tutto il corpo, tutta la muscolatura, lavorano gli addominali, lavora il gluteo, lavorano i dorsali, lavorano i tricipiti, forza, lungo il collo, vai, ok, vai gli addominali, forza, allora, destro e sinistro, opposti, vai, e, 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 torno, vai, allungo, mantieni l'angolo retto, eh, vai, e, schiaccia il mento, forza, molto lento questo, non c'è bisogno di farlo veloce, perché lavoriamo bene, bene, stringi, schiaccia il bacino sul pavimento, schiaccia anche il mento, vai, e, vai, allungati, e, vai, forza, rimani a 90 gradi, su, bene, vai, prendo l'elastico, rimango praticamente sul tappetino, vai ragazzi, eh, forza, e, su, apro, e chiudo, vai, su, su, allora, se non avete l'elastico, a parte che va benissimo anche senza elastico, se volete, potete mettere qui un peso, ok, in modo tale da far lavorare ancora di più i glutei, vai, stringi i glutei, vai su, bene, su, su, vai, 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 su, stringi bene, vai, non molla, vai, vai, ok, ottimo, vai, braccia, dorsali, vai, vai, e, vai, su, vai, e, forza, e vai, vai, e, allungo, schiena lunga, vai, con quel braccio, vai, forza, forza, tieni forte gli addominali, allunga bene, vai, non mollare, vai, non mollare, ok, bene ragazzi, forza, vai, dall'altro braccio, vai, e, vai, e, su, e, su, e, su, e, su, e, su, e, su, e, vai, e, vai, e, su, 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 e sul braccio, vai, vai, forza ragazzi, dai, non mollate, su, allunga bene, vai, e gli porti gli addominali, e, ok, bene, vai, addominali, dead bug, ok, schiaccia bene, schiaccia bene, sia il vento che il bacino, e rimane angolo retto, la gamba, vai, le ginocchia non sono verso il petto, sentino bene l'esercizio, non avere fretta, vai, 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 ok, grande prova ragazzi, forza, elastico, ok, penso che a sto giro l'abbiamo scampata, quarta, era la quinta, no, era la quarta, su, e su, vai, vai, su, stringi bene i glutei, tira su, tira su, vai, su, apri e chiudi, apri e chiudi, vai, forza, su, vai, vai, forza, dai, non mollare, forza, su, vai, su, sui glutei, vai, vai, buono, oh signore mio, vai, ci mancava pure quella, vai, braccia, nove, no, era dodici, quindi ce ne abbiamo altri, boh, mettiamo cinque e andiamo avanti, vai, poi, te lo dico io, vai, questo tanto è bene, ok, vai, su, e, su, e, su, e, su, e, vai, e, vai, e, vai, e, allunga bene, allunga bene la schiena, tieni forte gli addominali, vai, non mollare, respira, la fai lavorare, fai lavorare quel braccio, o fanno lavorare, vai, su, e, su, vai, allunga bene, su, vai, grande, ok, vai ragazzi, su, vai, che ce la stiamo facendo, tagliare, e, su, e, su, e, su, tieni forte gli addominali, allinea i piedi, le punte dei piedi, vai, su, su, non lo prendere chiaramente troppo leggero, se no non ti fa niente, eh, vai, devi sentire anche il lavoro, l'ingaggio, di tutta la parete addominale, vai, respira, vai, non mollare, forza, vai, grande, grandissimo, ok, vai, dead bug, su, e abbiamo finito il terzo round, e ci godiamo tutto il nostro, e, vai, schiaccia il mento, schiaccia, vai, su, schiaccia bene, forza, e, allunga bene, schiaccia il mento, vai, e, vai, e, vai, su, usa la respirazione, vai, non mollare, tieni forte gli addominali, vai, grandi, grandissimi ragazzi, e adesso ci deriviamo il nostro ultimo esercizio di allungamento e stretching, vai, e, e, ok, adesso, allungati, e, scendi, lento, fai un giro, e, torni, adesso dall'altra parte, allungati, giù la testa, e, ancora, vai, ah, che meraviglia ragazzi, vai, ah, l'ho fatto 75 mila volte questo workout, vai, sono arrivata praticamente sempre alla fine del secondo round, e, vai, e, adesso, ci mettiamo, sì, facciamo qualcosa per le braccia, allora, mi metto così, mi vedete bene, dovrei non arrivare troppo lunga, comunque, allungo bene, da qui, mi distendo sul tappetino, allora, con la mano sinistra mi spingo, porto la gamba sinistra da questa parte, chi ce la fa appoggia, se no va benissimo questo, e già questo è un esercizio per la spalla, allungo, chi ce la fa può anche portare indietro, ma senza ragazzi forzare, restate, 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 ok, e, dall'altra parte, in giro, vai, e, vai, di qua, piano, 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 allungo, piano, 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 resta, 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 e, piano, 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 torno, piano, torno, e, torno su, piano, allungo, e, vai, di qua, Rimando 2-3 secondi, resta, vai, resta, ok, adesso, cane a testa in giù, cane a testa in giù, vai, cammino davanti, rilasso la testa e cammino indietro, vai, e giù i talloni, vai, cammino avanti, e rilasso, e cammino indietro, e bene, adesso, porto la gamba, chi ce la fa, ok, se no da qui scendo, faccio questo, il picciole, giro, ok, da qua allungo, allungo, resto, resto, e, e vado avanti, vai, allungo, allungo, e, torno, vai, piccolo, resto, ok, adesso, da qui torno, mani indietro, cane a testa in giù, e cammino, cammino avanti, giù la testa, cammino indietro, e, vai, cammino avanti, e, ultimo, vai, cammino indietro, a testa in giù, chi ce la fa, adesso, piccione con la sinistra, vai, allungo, resta, 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 chi non ce la fa, piega la gamba, ok, a tenere la testa, mi allungo, vai, vai, resta, resta, e, torna, vai, allungati, allungati, ok, raccolgo, vengo su, distendo le gambe, prendo dietro, adesso, faccio i piccoli, diciamo, roll, indietro, piccoli, e, piano, piano, torno, vai, vai, piccoli, e, sempre, mani lunghi, fianchi, vai, vai, e, adesso, cerco di, rimanere, cerco di rimanere, chi ce la fa, stendere le gambe, chi non ce la fa, va benissimo, piegate, butta fuori l'aria, questo è fantastico per la cervicale, ok, stendo, 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 e, mani sotto le ginocchia, vai, vengo su, e, allungo, allungo bene, su, appoggio, vai, allunga, e, butta fuori l'aria, e, allunga qua, vai, appoggio, e, allontana, vai, spingi, 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 e, ok, torna, punta il piede, puntalo bene, bene, vai, allungati, allungati, e, allunga bene, e, adesso, torna, vai indietro con la sinistra, bene, appoggi, piano, vieni su, ispiri, e, scendi, spingendo il bacino, non molleggio, senti il corpo, bene, mano allungo, vai, spingo, 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 e, bene, punta, vado in plank, chi non ce la fa, appoggia le ginocchia, chi ce la fa, c'è la turamba, allunga, e, torna, resta, resta, e, vengo seduta, o, seduta, in, scusate, con le gambe, accavallate, cioè, incrociate, scendeva da destra, otto tempi, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, e, giro a sinistra, uno, due, piano, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, e, vengo su, giro a destra, torno al centro, sinistra, ancora una volta, destra, torno al centro, sinistra, e, e allungo, e torno, vai un'altra volta, ancora, per la seconda volta, questo, vai, e ultima volta, grande spiro, e rimango, giù la testa, vai, schiaccia il ginocchio, vai, e, grazie ragazzi, bellissima, lezione, vai, grazie di cuore per essere stati, anche questa volta, con me, noi ci vediamo alla prossima, io sono Smauri, Body Power and Elasticity, e questo è il percorso Start, alla prossima!